Bene, benvenuto anche da parte mia, grazie per la partecipazione alla nostra presentazione di oggi. Come ha anticipato Umberto Bertelet, che ringrazio come di consueto per la interessante apertura che ci ha dato, questo report si concentra sul tema della traiettoria che possono essere perseguite in questo processo di decarbonizzazione, che ovviamente rappresenta una sfida importante per le imprese, anche che si trovano a dover scegliere all'interno di un portafoglio piuttosto ampio di opportunità. In particolare poi il report si concentra, come detto, sui settori hard to abate. Prima di iniziare, come di consueto, un ringraziamento a chi ha reso possibile questa attività di ricerca, col proprio contributo finanziario e anche di contenuti e di idee. Alperia, CDP, CGT, Coop Service, Edison, Enea, Eni, Selunga, Gemmo, Maire, MCE, quindi Mostra Convenio Expo Comfort, MOST, Renovis, SNAM, Xiber. E un ringraziamento anche ad Assuesco e Elettricità Futura che hanno contribuito come patrocinatori. Ringrazio ovviamente, e giustamente menziono il gruppo di lavoro che ha curato questo aspetto, Simone Franzò in primis, che avrete occasione di sentire prossimamente nella mattinata con l'introduzione ai temi del report, Alessio Corazza, Valentina Bertoli, Leonardo Castellini, Alessio Delle Monache, Leonardo Mondonico. E ovviamente anche chi ha curato poi gli aspetti di natura grafica e di impostazione e impaginazione, quindi Flavia Cornobai, Arianna Fietta e Nicola Spegna. Loro io mi concentrerò, come un po' sempre faccio in questa apertura, sul qualche dato di quadro e poi sull'assetto normativo e regolatorio che può influire in sostanza su questo processo di decarbonizzazione. Quindi un primo approfondimento riguarda il quadro delle emissioni che si possono, si registrano a livello europeo e nazionale. Allora se noi guardiamo l'Europa, l'Europa ha un andamento delle emissioni in diminuzione, strutturale direi diminuzione. Li trovate il dato, come dire, al 2021, che è l'ultimo anno in cui si sono consolidati i dati. E questa riduzione è l'effetto di due aspetti. Da una parte la strutturale riduzione del consumo energetico finale, che è il grafico di mezzo, che come vedete in tutti i paesi tende a scendere. Poi c'è qualche, quelle flessioni che vedete più marcate sono legate a fenomeni del tipo pandemia, piuttosto che recessione economica. Però se guardate, come dire, in una prospettiva di 15-20 anni, vedete che comunque c'è un decremento costante del consumo energetico. L'altro grande contributo, ovviamente, è la penetrazione delle rinnovabili, che alla fine del decennio 2020 si erano attestate poco sotto il 20% e che poi sono, come dire, hanno ricominciato a risalire e oggi si attestano al 21,8%. Quindi questi due aspetti sono essenzialmente quelli che hanno contribuito alla riduzione delle emissioni. Se ci concentriamo sul nostro paese e confrontiamo poi questo andamento, o meglio approfondiamo questo andamento, legandolo al PIL e a come si sono comportati diversi settori, possiamo fare qualche altra osservazione piuttosto interessante. Per rendere semplice la lettura, il tratteggio è il PIL, che come vedete, come dire, con un andamento un po' altalenante negli ultimi 10-12 anni, ma comunque anche qua, se traguardate i 20-15 anni, sale e tutte le altre curve a colore pieno sono quelle che ci fanno vedere come si è ridotta l'intensità carbonica nei vari settori. Quindi il verde è l'industria, il blu i trasporti, il rosso la produzione dell'energia e calore, che sono esattamente le tre aree dove si è registrato una diminuzione più marcata. Pochino più piatte le curve, l'andamento del giallo, che è l'agricoltura, e l'azzurro, che è invece il settore civile, che infatti poi, dal punto di vista della necessità di penetrazione dell'efficienza, è in qualche modo anche nel PNIEC indicato come una priorità. Quindi industria, trasporti e produzione di energia e calore, sostanzialmente, in particolare industria e produzione di energia e calore, sono quelli che hanno contribuito in misura maggiore a una riduzione delle emissioni che si è registrata anche nel nostro Paese. Giusto per dare una proporzione di quello che è il ruolo che questi comparti hanno in termini di emissioni di gas effetto serra, che aiuta perché poi aiuta a capire dove uno deve insistere, no? E in qualche misura quelli che invece hanno un ruolo minoritario, vediamo che i trasporti si attestano intorno al 27%, sono l'area più corposa, l'industria al 25%, produzione di elettricità e calore al 15%, il civile, che ricomprende terziario e residenziale, il 18%. Poi li trovate nei grafici laterali lo spaccato dei settori piuttosto che delle attività. Quindi impianti a gas naturale ovviamente sono gli elementi più, come dire, che contribuiscono maggiormente alla produzione di elettricità e calore e quindi anche alle emissioni automobili, eccetera. Ecco, diciamo che, sempre per arrivare a un'analisi un po' più attenta, questo tipo di andamento che quindi vede da una parte le emissioni totali scendere e dall'altra parte l'economia crescere, non in modo particolarmente brillante, ma comunque crescere, lo vedete nel grafico a sinistra dove sono riportate le emissioni in verde e in blu l'andamento del valore aggiunto della nostra economia, anzi in realtà qua il focus è l'industria, perché l'industria poi è il focus del nostro report, vedete che al crescere del valore aggiunto si registra una riduzione delle emissioni. Quindi quello che è poi l'obiettivo che si insegue di fatto, che è il cosiddetto decoupling, quindi il disaccoppiamento tra il fatto di avere una crescita economica a cui nessuno rinuncia e anzi rappresenta un po' l'assillo costante di tutte le aree del mondo e dall'altra parte però essere capaci di coniugare la crescita economica con la riduzione delle emissioni nel nostro paese, come dire, in qualche modo può essere riconosciuto essere in atto, così come di fatto, se guardassimo anche in generale l'andamento dell'Unione Europea, di fatto a tutta Europa. La ragione di questo si legge nel grafico a destra dove sono riportate due curve che trasferiscono due messaggi, come va l'intensità energetica, come va l'intensità carbonica. Quindi da una parte questo risultato viene ottenuto per effetto del fatto che per un'unità di reddito si consuma meno energia, dall'altra parte viene ottenuto perché cambia il mix energetico, quindi il peso delle, come dire, per ogni unità di, le emissioni di CO2 per unità di energia utilizzata diminuiscono, che vuol dire che cambia il mix, che è sostanzialmente riconducibile a quel fattore di penetrazione maggiore delle rinnovabili e riduzione del ruolo dei fossili, che si è in qualche modo già commentato. Quindi, diciamo, il nostro paese sta andando abbastanza bene, o comunque è in una strutturale riduzione di entrambi questi indici. Il resto della mia introduzione riguarda un po' il quadro normativo per fare, come dire, contestualizzare qual è l'assetto normativo e regolatorio in cui questo processo di decarbonizzazione si innesta. Come ovviamente ci si poteva aspettare, prima del 2020 era in atto tutto un processo di ridefinizione di quelli che sarebbero stati gli obiettivi comunitari al 2030, quindi Green Deal europeo in primis. da allora, in effetti, in questi anni, per effetto di fenomeni straordinari, la pandemia, la guerra, di fatto si è intervenuti in misura significativa e molto costante, no? Per un po' ridefinire l'assetto normativo e regolatorio in qualche modo riguardando quelli che erano gli obiettivi che l'Unione si voleva dare. Quindi è intervenuto che cosa? Il Next Generation EU, che ha poi prodotto il PNRR, il Repower EU, eccetera. In realtà in questo report funzionale all'obiettivo di questo report ci concentriamo, o menzionerò, tre cose che poi nel report si trova, come dire, un po' più approfondito, che sono la direttiva riguardante la Corporate Sustainability Reporting, quella che è stata un po' la revisione del sistema ETS e il Carbon Adjustment Mechanism che riguarda invece appunto la gestione del carbonio alle frontiere. Quindi mi concentrerò su questi tre aspetti. Prima di questo, o in premessa, quella che è poi il tema del Corporate Sustainability Reporting, va, come dire, fatto una premessa, cioè l'UE ha fatto uno sforzo di classificare le attività cosiddette ecosostenibili introducendo quelle che si chiama una tassonomia. Quindi cercando di, in qualche modo, chiarire quelle che, in ottica comunitaria, vengono elette a attività di fatto ecosostenibili. Con quale scopo? Uno, evidentemente, come dire, ridurre la simmetria informativa sull'argomento. Secondo, ridurre le politiche ispirate al greenwashing. Quindi, come dire, evitare che poi queste si risolvano in dichiarati in attività qualitative poco, come dire, riconoscibili in termini concreti. E ovviamente anche fornire una sorta di base sulla quale le imprese possono programmare la propria transizione verso la decarbonizzazione. E quindi, poi chiaramente la tassonomia è un ricco documento pieno di, come dire, considerazioni. L'allineamento alla tassonomia di un'attività così definita ecosostenibile significa che questa attività contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ambientale, lo ottiene senza danneggiarne un altro, quindi non viene concepita in trade-off tra, come dire, favorendone uno e andando invece a lederne un altro. E poi, ovviamente, il tutto avviene all'interno di un meccanismo, di un'attenzione alla salvaguardia dei diritti e degli aspetti, se vogliamo, i principi, voglio dire, fondamentali di vivere civile. Quindi, secondo, i principi guida ONU, eccetera. Perché questo? Perché in realtà, dal gennaio 2023, è stata, nel gennaio 2023, è stata varata questa Corporate Sustainability Reporting Directive, che prevede, con un processo di diffusione progressivo, che le imprese, in qualche modo, come dire, trasmettano quali sono delle attività ecosostenibili che vanno a realizzare e rendi continuo, in qualche modo, dati di carattere economico su questo. Dicevo, appunto, che l'ambito applicativo è, come dire, progressivo, quindi inizialmente, nel 2024, sono interessate le società di cosiddetto interesse pubblico, quindi sopra i 500 dipendenti. Dal 2025 si estende alle grandi imprese, definite, secondo la classica definizione UE, quindi più di 250 dipendenti e 40 milioni di fatturato, e poi a crescere PMI quotate, fino ad arrivare anche alle imprese extra UE, che controllino attività all'interno dell'Unione Europea, avendone proprietà completa. In che modo va un po' impostato questa sorta di reporting? E da una parte si fa riferimento agli ESG, e quindi a quali obiettivi di carattere ambientale, sociale o di governance l'attività fa riferimento, e da un punto di vista quantitativo viene chiesto che si esprima qual è la quota di fatturato che venga da prodotti e servizi associati ad attività economiche ecosostenibili, e anche CAPEX e OPEX che vengono destinate a queste attività. Quindi sappiamo che è un'area di difficile perimetrazione e di difficile definizione, però sicuramente rappresenta uno sforzo che va nella direzione di indurre le imprese e creare un ambito, un perimetro, un contesto dove di fatto si possa migliorare il livello di efficacia che queste azioni tendono ad avere, eliminando appunto delle politiche o delle strategie di pura facciata. Secondo grande, come dire, cambiamento riguarda l'introduzione del cosiddetto regolamento Carbon Border Adjustment Mechanism, che è un meccanismo con cui, che definirei chiave in qualche misura nella logica globale, perché di fatto che cosa va a fare? Di fatto attribuisce un prezzo alle emissioni di carbonio associate alle merci che vengono importate nell'Unione Europea, che è un fenomeno assolutamente centrale, perché ovviamente è un meccanismo che tende ad evitare la delocalizzazione, che è una delle risposte tipiche che l'industria europea, come dire, o minaccia che l'industria europea pone quando c'è un'eccessiva enfasi o un eccessivo costo del carbonio, quindi sancire qual è il prezzo del carbonio associato alle merci importate e ovviamente anche quello di, come dire, trascinare in qualche misura, altro aspetto estremamente delicato, paesi extra-UE a ragionare in questi termini. Umberto si è trattenuto un po' sulla COP28, dove uno dei classici elementi di discussione è stato questo benedetto Climate Fund, che dovrebbe essere questo fondo che i paesi, diciamo, sviluppati industriali dedicano, o diciamo, una storia industriale importante, dedicano allo sviluppo dell'assetto energetico dei paesi emergenti o in via di sviluppo, per evitare che questi, come dire, riproducano lo stesso cammino che abbiamo percorso noi in 250 anni di storia. Poi, se andiamo a guardare i fatti, diciamo che la disponibilità a mettere mano al portafoglio e mettere quattrini su questo, ahimè, è sempre un po' stentato. Però, ecco, questo tipo di provvedimento sicuramente si innesta sul fatto di sensibilizzare il resto del pianeta a fare attenzione a quelli che sono gli effetti delle emissioni. C'è un sottinsieme di settori che verrà interessato da questo tipo di provvedimento, quindi cemento, ferro, concimi, acciaio, alluminio, in prima battuta, stiamo parlando di oltre 160 miliardi di euro di merci importate, se guardiamo al dato 22. Dico, come dire, come commento a latere, poi, merce importate è una definizione che merita, come dire, un approfondimento. Chi ha vissuto nel solare i dazzi sui pannelli cinesi ricorderà tutte le forme con cui il pannello cinese rimarchiato in altro modo arrivava qui e veniva un po', come dire, riconfezionato come prodotto europeo. Quindi, diciamo, da un punto di vista dell'implementazione, quindi provvedimento di principio di grande valore, di implementazione critica, e quindi, come dire, che non dico per essere pessimista, ma che meriterà sicuramente un'attenzione forte. A seguire, il carbon adjustment verrà utilizzato, verrà applicato anche sull'energia elettrica e sull'idrogeno. Un cenno a quello che è, un po' si salda questo tema, il quadro dei sistemi emission trading in giro per il mondo. Noi ne abbiamo uno abbastanza ormai solido in Europa, sicuramente il più strutturato e il più rilevante. In realtà, in giro per il mondo, ce ne sono 28 in vigore, altri in fase di, come dire, implementazione e sviluppo. Ecco, oggi, di fatto, l'emission trading, quindi, diciamo, lo scambio di certificati ad emettere, si riguarda un perimetro che si attesta intorno al 17% complessivo delle emissioni a livello globale. Quindi, nonostante l'Europa sia andata avanti in maniera importante dopo Chioto, che, ricordo, è stato, come dire, da questo punto di vista, antesignano di questo meccanismo, ma a cui non è poi seguito uno sforzo di tipo globale, ma si è poi rimasto uno sforzo di tipo europeo. Ecco, oggi c'è qualche segnale di estensione ad altri Paesi, però la percentuale rimane una percentuale abbastanza circoscritta. è costantemente un elemento di attenzione e di approfondimento da parte delle polisi europee, tant'è vero che poi, in questi anni recenti, è stata effettuata una revisione anche dei sistemi ETS, di fatto, come dire, estendendo l'ETS al trasporto marittimo, introducendone una riguantivo al trasporto stradale e all'edilizia e poi prevedendo anche l'inclusione della gestione dei rifiuti. Quindi, diciamo, è un'altra traiettoria che costantemente viene perseguita. Nel grafico, diciamo, nella grande tabella, trovate sostanzialmente quali sono i Paesi che sono dotati di un ETS, in alcuni casi si parla di regioni all'interno di Paesi e non Paesi nel loro complesso. Come vedete, a parte le colonne, come dire, la riga dell'ETS europeo, che è la prima, gli altri tendono evidentemente a toccare un sottoinsieme di settori ancora abbastanza significativo. L'energia, che è quello blu, è quello che generalmente viene colpito da tutti questi tipi di provvedimenti. Un cenno, poi, ad altri due aspetti. Uno, è stata effettuata una revisione del PNRR, che ha in qualche misura leggermente modificato i numeri, ovviamente mantenendo la centralità della rivoluzione verde, della transizione energetica e delle infrastrutture per la mobilità, introducendo in realtà un capitolo denominato in modo diverso, che è questo M7 Repower EU, quindi introducendo e aggiungendo alle sei missioni precedenti una settima missione. Quindi, diciamo, se uno strettamente guardasse la missione 2 e 3, che è quella che toccano il settore dell'energia, c'è stata una diminuzione degli investimenti previsti, da 59-55, da 25-23, ma in realtà perché poi un pezzo di quello che è stato scorporato da lì è finito nella missione 7, che è quella legata al Repower EU, e quindi che fa tesoro anche della necessità di assicurare e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, quindi le interconnessioni, e anche, come dire, si concentra sul tema del rafforzamento delle reti e delle infrastrutture. Se guardiamo, come dire, le direttrici tecnologiche su cui insiste il PNRR, fondamentalmente leggerissima diminuzione degli investimenti in idrogeno, crescita nell'elettrificazione, mantenimento del traiettore sui biocombustibili, non c'è nessun tipo di allocazione di risorse sulla Carbon Capture and Sequestration, che viene citata sempre sia nel PNIE che poi nel documento che guarda il 2050 come una tecnologia chiave, ma che ad oggi però, come dire, su cui ad oggi però non vengono allocati investimenti. L'ultima cosa che dico molto rapidamente, che credo sia anche quella più nota in assoluto, è il fatto che è stato fatto un aggiornamento del PNIE pubblicato a metà dell'anno scorso, che poi, come dire, a metà di quest'anno verrà consolidato definitivamente dopo le osservazioni della Commissione, che di fatto, come dire, ribadisce un'attenzione forte al tema dell'efficienza e quindi, giusto per dare due numeri importanti, immagina al 2030 un Paese che abbia un fabbisogno primario di 122 milioni di TEP e un consumo finale di 100 milioni di TEP. Tenete conto che nel 2021 questi due numeri erano 145 e 113, quindi quel declino strutturale dei consumi è un fatto, come dire, che si verificherà e proseguirà anche in questo decennio. Da ultimo, quali sono gli obiettivi più sfidanti? Quindi, chiaramente, credo siano noti, da una parte la generazione rinnovabile, 58 gigawatt al 2021, oggi circa 65, l'attesa al 2030 è 131, quindi vuol dire raddoppiare da oggi ad allora, la crescita nella penetrazione delle pompe di calore da 2.700 a 6.600 e, ricordo, non l'ho messo in questa slide, che non è stato modificato il numero di auto elettriche che si immagina circolanti al 2030, che rimane 6.6 milioni. Non dico niente su questo, come dire, un tema che sicuramente presenta una sfida rilevante. Quindi, in sintesi, perché il tempo è scaduto, il percorso che l'Italia e l'Europa stanno facendo, sicuramente possiamo dire, si poteva fare di più, si può fare meglio, ha un qualche carattere di virtù, perché è arrivato al decoupling tra economia ed emissioni. Sicuramente, come dire, la traiettoria della decarbonizzazione è tracciata sui tre assi, rinnovabili, efficienza e elettrificazione, ecco, lavoriamo sostanzialmente su, all'interno di un contesto che deve cercare di estendere al resto del pianeta o a aree al di fuori dell'Europa questo tipo di sforzo. Per quanto riguarda il nostro Paese, sicuramente le risorse più significative vengono da PNRR e da quanto allocato in termini di PNIEC. Io ho terminato il mio compito introduttivo, vi ringrazio, rinnovo il piacere di avervi qua. Grazie.